I T-Day si torneranno il 3-4 dicembre in occasione del Motor Show. La Giunta Merola ufficializza la nuova iniziativa di chiusura al traffico del centro storico che sarà presentata domani. Intanto arriva un secco no dall'ASCOM alla pedonalizzazione di Via Petroni. Il presidente dei commercianti Enrico Bostacchini non ha dubbi, è un'idea sbagliata, dice che creerebbe enormi problemi a tutta l'area. Il problema dell'inquinamento a Bologna non sono le auto, dopo anni di polemiche e di limitazioni al traffico arriva un inatteso contro ordine dall'assessore provinciale l'ambiente Emanuele Burgin che invita a cambiare gli impianti di energia e puntare sulle fonti rinnovabili. Ottimizzare le riforme e continuare con Italia ai costi della politica è l'obiettivo della Regione Emilia-Romagna che sta per varare la sua manovra finanziaria per il 2012. Il presidente Errani ribadisce la necessità di lavorare sulla crescita. Sempre più drammatica la situazione del capcere della Dozza di Bologna. Otto mezzi tra auto, furgoni e autobus sono fermi perché non ci sono i soldi per ripararli e spesso gli agenti, dice il Sappe, devono anticipare i soldi dello stipendio. Buonasera dalla redazione di ETG, lo avete sentito dai titoli. Questa sera apriamo il nostro telegiornale con la viabilità. Torniamo a parlare dei T-Day, infatti ritornano, ovvero sia il blocco del traffico nel centro storico della città nei weekend che torna nella T, dunque via Indipendenza, via Ugo Bassi e via Rizzoli. Dunque il 3-4 dicembre ci sarà questo blocco al traffico in concomitanza del Motor Show. La notizia è stata ufficializzata oggi, però solamente domani ci saranno i dettagli. Intanto andiamo a vedere un'anticipazione con Simona Iannessa. I T-Day torneranno nel weekend del 3-4 dicembre in concomitanza con il Motor Show. L'ufficializzazione è arrivata nel pomeriggio, la pedonalizzazione dunque prosegue e nel centro storico prima o dopo si andrà a piedi. Parola di Andrea Colombo, assessore comunale al traffico e alla mobilità, che non torna sui suoi passi e annuncia la convocazione a breve di una consultazione cittadina propedeutica alla chiusura alle auto originariamente prevista per la fine dell'estate. L'assessore, sempre più convinto del progetto della grande pedonalizzazione del centro storico e domani presenterà il nuovo T-Day, le cui date sono state, come detto, anticipate poche ore fa. A dare manforte all'assessore Colombo ci ha pensato il sindaco Virginio Merola, che ha ribadito il nostro obiettivo è quello di aprire ai pedoni e alle biciclette con una modalità partecipata, così come era stato annunciato durante la campagna elettorale. Questo tanto per chiarire che l'intenzione di portare a termine il progetto c'è e resta, ma per le tempistiche bisogna avere un po' di pazienza, visto che ci sono anche altre urgenze. Comunque, tanto per tranquillizzare gli animi, il sindaco ha annunciato una proposta compiuta da parte dell'amministrazione quando verrà avviato l'iter di pedonalizzazione. Infine, tra polemiche e rimpalli, c'è il tempo anche per qualche precisazione. Il sindaco Merola infatti ha anticipato che verranno realizzate pedonalizzazioni integrali e di tipo europeo, cosa quest'ultima che richiederà anche politiche della sosta differenti zona per zona. A scanso di equivoci, dunque, la fuga in avanti della pedonalizzazione di via Petroni è già in previsione, ma rientrerà nel contesto di un progetto complessivo di cui la mobilità è solo una parte. E come abbiamo sentito, il Comune di Bologna parla di pedonalizzazioni, di blocco del traffico, di T-Day, ma c'è una voce, una posizione nettamente diversa, che arriva dalla provincia di Bologna per voce dell'assessore all'ambiente Emanuele Burgin, per il quale, in sostanza, pedonalizzazioni e blocchi al traffico non hanno alcuna incidenza sull'inquinamento dell'aria. Sentiamo i dettagli con Massimo Ricci. Sono le classiche faccende che fanno infuriare il cittadino qualunque e che altri inopinatamente bollano come qualunquismo o populismo. Le pedonalizzazioni in città non servono a migliorare la qualità dell'aria. A dirlo è l'assessore provinciale all'ambiente Emanuele Burgin, sconfortato dai 40 giorni di sforamento nel 2011 dei livelli di polveri sottili. Le pedonalizzazioni sono belle per la qualità urbana, ha spiegato, ma potremmo anche pedonalizzare tutta Bologna e l'aria rimarrebbe quella lì, ammesso. Questo perché, secondo Burgin, l'inquinamento atmosferico sta cambiando. Abbiamo sforato pesantemente sull'ozono e il nostro vero problema sono gli ossidi di azoto. Secondo l'assessore è necessario, d'ora in avanti, spostare l'attenzione dai tubi di scarico delle auto alle combustioni, cioè bisogna concentrarsi sui grandi impianti di energia elettrica, coinvolgendo il sistema energetico. Se non spostiamo il tema verso le rinnovabili e il sistema energetico, ha proseguito Burgin, è inutile stare qui a discutere di una macchina in più o in meno. Parole che sono musica per le orecchie degli automobilisti, per anni costretti a targhe alterne, a blocchi del traffico e altri provvedimenti restrittivi in nome della qualità dell'aria. Che il traffico non incida più di tanto sull'inquinamento è dimostrato dai dati che lo stesso assessore mette in evidenza. In alcune giornate sono stati registrati gli stessi valori di inquinanti dalla centralina del centro storico e in quella in piena campagna a San Pietro Capofiume. Alla luce di tutto questo fa sorridere tutto il piano regionale di blocchi e limitazioni al traffico denominato Liberiamo l'aria. Ci vuole rispetto, se non per gli automobilisti, almeno per la lingua italiana. Questa è dunque la posizione della provincia in merito ai blocchi del traffico. Altidei, intanto l'associazione dei commercianti è contraria alla pedonalizzazione, nello specifico di via Petroni. Infatti l'ASCOM Bologna prende posizione proprio sull'ipotesi avanzata da alcuni membri della giunta Merola di chiudere la strada per risolvere problemi, ormai annosi lo sappiamo, di caos e anche di degrado. Gabriele Sciarra. Fanno ancora discutere i provvedimenti finora solo ipotizzati per tentare di risolvere il caos e il degrado, soprattutto se era l'invia Petroni. Dopo la proposta del sindaco di dare una stretta agli orari di chiusura dei negozi alimentari e locali pubblici, c'è chi all'interno della giunta e della maggioranza di Palazzo da Cursio si è spinto più in là auspicando la pedonalizzazione della strada. Un'idea che non è piaciuta affatto al numero uno dell'associazione commerciante di Bologna, Enrico Postacchini, che questa mattina ha ricordato come nell'incontro di venerdì scorso con il sindaco si era parlato di orari sì, ma non di chiusura della strada. L'ASCOM aveva proposto anche una sorta di comitato pubblico privato per il controllo della zona, ma, dice oggi Postacchini, parlare di pedonalizzazione è quantomeno prematuro. Il rischio è, avverte Postacchini, di fare di via Petroni un cortile ancora più comodo per chi ci staziona. Senza contare, prosegue, che oggi è l'unico punto di accesso ad una zona totalmente pedonale e un divieto ulteriore creerebbe enormi problemi logistici. Non sono decisioni che si possono prendere da un giorno all'altro, conclude Postacchini, è necessario prima ripensare la mobilità di tutta l'area e il marketing di quella via. Una posizione non dissimile da quella del consigliere comunale del Partito Democratico Maurizio Cevelini, che parla di proposta anticipata rispetto ad una programmazione globale. Non si deve fare confusione e in via Petroni troppe ricette hanno fallito, conclude Cevelini, per il quale l'unica speranza va riposta in una collaborazione tra cittadini e frequentatori della zona. E dal Comune di Bologna ci spostiamo in Regione perché l'Assemblea Legislativa ha approvato oggi a maggioranza il rendiconto generale 2010 della Regione Emilia-Romagna. Contrari, PDL, Lega Nord, Udc e Movimento 5 Stelle. Intanto il Governatore Errani ha annunciato che ridurrà ulteriormente i costi della politica e di gestione per l'appunto della Regione Emilia-Romagna. Sentiamo. La Giunta Errani impugnerà le forbici per ridurre ancora i costi della politica e di gestione della Regione Emilia-Romagna. È ancora presto per fare delle stime, ma il Governatore Vasco Errani già anticipa l'intenzione di rimettere mano al tema dell'autoriforma di Viale Aldomoro. Anche perché il problema non è semplicemente la cifra che si risparmia, ma è un segnale di corrispondenza tra i cittadini e le istituzioni di Cerrani. L'occasione per parlarne è la discussione, oggi in Assemblea Legislativa, del rendiconto 2010. Un bilancio che già prevedeva qualche taglio doloroso, ma niente a confronto delle prospettive rispetto al 2012. L'obiettivo, spiega il Governatore, è realizzare un processo che sia in grado di dare efficienza e ridurre i costi gestionali. Da questo punto di vista i risultati che già abbiamo raggiunto sono eclatanti. Penso per esempio la riduzione di oltre il 76% delle consulenze in questa Regione o quello che abbiamo fatto sul Consiglio, sui vitalizi, sugli stipendi, eccetera. Continueremo così, perché il problema non è semplicemente, vorrei dirlo questo, non è semplicemente la cifra che si risparmia, ma è un segnale di corrispondenza tra i cittadini e le istituzioni. L'opposizione non la pensa così. Il centro-sinistra piange miserie, ma in realtà i sprechi in questa Regione sono ancora altissimi. Si può fare molta più efficienza, spendiamo per la consulta degli miliardi romagnoli all'estero un milione di euro ogni anno. Come presidente un ex consigliera regionale, Silvia Bartolini, che va in giro per il mondo a spese della Regione, ma questo è un piccolo esempio. Toghe in protesta, i diritti della difesa sono sempre più calpestati e nei confronti degli avvocati si susseguono attacchi che mirano a indebolirne la funzione. Sono queste sostanzialmente le motivazioni che stanno alla base dello sciopero che i penalisti assistiti dall'Unione Camere Penali Italiane hanno proclamato per cinque giorni, dal 14 al 18 novembre anche a Bologna. La funzione difensiva subisce pesanti attacchi, si legge in una nota, con i quali si produce l'effetto di intimidire e di screditare i difensori e con loro il diritto di difesa previsto e garantito dalla Costituzione. Tra le pratiche ritenute scorrette dagli avvocati compaiono la prassi distorta di ritardare l'iscrizione nel registro degli indagati, l'attentato al segreto professionale e i casi di aggressioni gratuite che spesso consistono in veri e propri sfregi alla categoria e al principio dell'inviolabilità della toga. La pagina sindacale si è parlato anche delle avvertenze della Ferrari e della Maserati questa mattina in Consiglio regionale. L'assessore Giancarlo Muzzarelli ha incontrato infatti una rappresentanza dei lavoratori della Ferrari e ha risposto ad una interrogazione dei grillini. Ancora Giuseppe Piloni. In Consiglio regionale approdano le avvertenze della Ferrari e della Maserati. Questa mattina in Viale Aldomoro si è presentata anche una rappresentanza dei dipendenti della fabbrica di Maranello. I lavoratori dicono no al trasferimento da Modena di parte della produzione Maserati, no al cosiddetto piano Marchionne che applicherebbe anche in Ferrari, azienda Florida, il contratto di Pomigliano voluto per gli stabilimenti in crisi. L'assessore regionale dell'attività produttiva Giancarlo Muzzarelli ha incontrato i lavoratori e ha risposto in aula ad un'interrogazione presentata dai grillini. E ho detto che io ho già scritto due lettere per capire meglio che cosa sta succedendo all'interno di Maserati, qual è il progetto futuro di quella straordinaria casa automobilistica e ho intrecciato ovviamente il ragionamento anche per quanto riguarda la Ferrari. Il nostro obiettivo è far capire ai leader del sistema Fiat che Modena, l'Emilia Romagna, la Via Emilia sono un brand straordinario. Le auto più belle del mondo si fanno qui e qui ci sono le condizioni per continuare per la flessibilità, per la subfornitura, per le condizioni di alta qualità del lavoro della nostra regione e quindi credo che bisogna ripartire da qui, da questa dinamicità, dal buon bilancio che la Ferrari ha presentato in questi giorni e far capire che da qui con il rispetto del lavoro e con la forza del lavoro della nostra regione ci sono le condizioni per continuare a costruire auto di eccellenza e stare sui mercati internazionali. È una grande sfida ma va capita, va valorizzata, sostenuta e l'Emilia Romagna è in campo per dare questo contributo. La situazione è ancora estremamente nebulosa perché sostanzialmente la Fiat non si presenta ai tavoli, non risponde alle lettere come abbiamo imparato anche oggi di Muzzarelli e quindi la preoccupazione per i lavoratori è massima. Credo che oggi siamo riusciti a portare un po' la ribalta a questo caso e a destare l'attenzione anche dell'assessore. La porteremo anche in commissione con un'apposita risoluzione. Adesso una notizia che riguarda la nostra emittente. Il Partito Democratico chiede che si faccia ogni sforzo per salvaguardare i posti di lavoro, all'informazione e per l'appunto a ETV. Da tempo al centro di crisi e ora di un piano aziendale che prevede un esubero di 14 dipendenti su 42 per le emittente televisive e di 22 su 44 per il giornale. Il capogruppo Marco Monari chiede di mettere in campo tutti gli strumenti utili a evitare il depauperamento di una realtà giornalistica ed editoriale importante che da anni presidia diverse province dell'Emilia Romagna e salvare i posti di lavoro. Il PD ha così presentato una risoluzione in regione ripercorrendo le tappe della trattativa tra aziende e sindacati che per il momento non ha portato a nessun accordo. Serve ogni sforzo, conclude Monari, affinché nei limiti delle competenze di ognuno e dell'autonomia decisionale del gruppo editoriale si possa approdare ad una soluzione positiva per giornalisti e tecnici tale da mantenere intatti gli attuali organici aziendali. Torniamo a parlare del carcere della Dozza. Ci sono problemi, questa volta riguarda parte la mancanza di soldi, quello ormai è un problema annoso. Ci sono anche i mezzi, mezzi fermi. Si parla di furgoni, si parla di autobus. È una denuncia che arriva ancora dal SAP che prevede se le cose continueranno così il rischio di un concreto sciopero. Otto mezzi fra auto, furgoni e autobus inutilizzabili perché mancano i soldi per la manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni. È l'ennesimo disagio al carcere della Dozza di Bologna denunciato dal SAP, il sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria, con una nota firmata dal segretario generale aggiunto Giovanni Battista Durante, per il quale nelle carceri italiane ormai non è più possibile svolgere compiti istituzionali, a causa della mancanza di risorse economiche. Una situazione che incide sul mancato pagamento delle emissioni e dello straordinario al personale, spesso costretto ad anticipare i soldi dal proprio stipendio, ma anche nel servizio del trasporto dei detenuti, per il quale il provveditorato deve mandare i mezzi da altri istituti, fin quando anche lì non avranno gli stessi problemi, considerato che molti di questi hanno già fatto 300-400 mila chilometri. È quanto sostiene il numero uno del SAP che più di un anno fa aveva fatto un monitoraggio in Emilia-Romagna e chiesto al Ministero l'invio di nuovi mezzi, ma la risposta era stata negativa, in quanto tutto andava bene e non c'era bisogno di altri mezzi in regione, riferisce Durante, che annuncia così il concreto rischio di uno sciopero a breve. Ci fermiamo per un primo stacco pubblicitario, poi di nuovo in studio con altre notizie. Di nuovo in studio con l'NTG, tra pochissimo parleremo di spettacolo, prima però andiamo a vedere i titoli principali di oggi, il nostro telegiornale si è aperto con la viabilità, i T-Days, torneranno il 3-4 dicembre in occasione del Motor Show. La giunta Merola ufficializza la nuova iniziativa di chiusura al traffico del centro storico che sarà presentata domani. Intanto arriva un secco no dall'ASCOM alla pedonalizzazione di Via Petroni. Il presidente dei commercianti Enrico Postacchini non ha dubbi, è un'idea sbagliata, dice, che creerebbe enormi problemi a tutta l'area. Il problema dell'inquinamento a Bologna non sono le auto. Dopo anni di polemiche e di limitazioni al traffico arriva un inatteso controordine dall'assessore provinciale all'ambiente Emanuele Burgin che invita a cambiare gli impianti di energia e a puntare sulle fonti rinnovabili. Ottimizzare le riforme e continuare con Italia i costi della politica è l'obiettivo della regione Emilia-Romagna che sta per varare la sua manovra finanziaria per il 2012. Il presidente Errani ribadisce la necessità di lavorare sulla crescita. Sempre più drammatica la situazione del carcere della Dozza di Bologna. Otto mezzi tra auto, furgoni e autobus sono fermi perché non ci sono i soldi per ripararli e spesso gli agenti, dice il Sappe, devono anticipare i soldi dello stipendio. Allora, riprendiamo il nostro telegiornale. Parliamo per l'appunto di spettacolo. Come detto, infatti da domani fino a domenica al Duse di Bologna arrivano i ballerini, attori, percussionisti di Stomp che saranno in città per festeggiare i vent'anni della loro attività e si tratta di una esclusiva regionale. Andiamo a vedere. Dopo il grande successo di pubblico per Piano 12, trasmesso in diretta dai TV sabato scorso con il concerto inaugurale del nuovo Duse, il cartellone dello storico teatro bolognese prosegue alla grande. Da domani fino a domenica 13 novembre l'appuntamento è con l'Energia di Stomp, uno tra i più rivoluzionari ed entusiasmanti eventi spettacolari degli ultimi anni. Ballerini, percussionisti, attori e acrobati mettono in scena il suono del nostro tempo, utilizzando i rumori della civiltà contemporanea, con strofinì, battiti e percussioni di ogni tipo, dando voce ai più comuni oggetti della vita quotidiana. Vidoni della spazzatura, neumatici, lavandini, scope, spazzoloni, con ironia travolgente. Che non è solo musica, è tutto, è mimo, gioco, clown, sono scatenati, sono inglesi, un gruppo che ha creato varie formazioni che girano il mondo, quindi non soltanto in Italia ma nel mondo intero ci sono formazioni diverse che producono e propongono questo spettacolo. si ride tantissimo, sono sketch uno dietro l'altro con un ritmo travolgente. Il loro spettacolo è ecologico perché è il recupero di tutto quello che produce questo mondo commercializzato. Il pubblico balla, il pubblico segue, ride molto, ride perché tutto questo è fatto con ironia, simpatia, divertimento. E vi ricordo anche che questa sera alle 21 saremo in diretta con il pallone gonfiato dal teatro di San Pietro in Casale, come sempre con Alberto Bortolotti e con i suoi ospiti. Ci fermiamo ancora qualche minuto, restate con noi. Di nuovo in studio con ETG, c'è solamente il tempo per andare a rivedere gli argomenti principali di oggi. L'apertura è stata dedicata alla viabilità. Iki Days infatti torneranno il 3-4 dicembre in occasione del Motor Show. La Giunta Merola ufficializza la nuova iniziativa di chiusura al traffico del centro storico che sarà presentata domani. Intanto arriva un secco no dall'ASCOM alla pedonalizzazione di Via Petroni. Il presidente dei commercianti Enrico Postacchini non ha dubbi, è un'idea sbagliata, dice, che creerebbe enormi problemi a tutta l'area. Il problema dell'inquinamento a Bologna non sono le auto. Dopo anni di polemiche e di limitazione al traffico, arriva un inatteso controordine dall'assessore provinciale all'ambiente Emanuele Burgin, che invita a cambiare gli impianti di energia e a puntare sulle fonti rinnovabili. Ottimizzare le riforme e continuare con i tagli ai costi della politica è l'obiettivo della Regione Emilia-Romagna, che sta per varare la sua manovra finanziaria per il 2012. Il presidente Errani ribadisce la necessità di lavorare sulla crescita. Sempre più drammatica la situazione del carcere della Dozza di Bologna. otto mezzi tra auto, furgoni e autobus sono fermi perché non ci sono i soldi per ripararli e spesso gli agenti, dice il Sappe, devono anticipare i soldi dello stipendio. È davvero tutto anche per questa sera, grazie per essere stati con noi, una buona serata, arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.